Marchigiani delle Marche! Marchigiani buongiorno! Oggi siamo a Cingoli, vi porteremo indietro nel tempo. Siamo arrivati, anzi parliamo piano perché ci potrebbero sentire i dinosauri! Adesso ci avviciniamo al mammut, è veramente grosso! Non moccica questo, tranquilla! Grande eh? Questo è inquietante, ma che roba è? Un croce tra una iena, un mezzo lupo, un orso... Qui ce ne sono altri, i dinosauri, è un parco bellissimo, situato a Cingoli, quindi adatto per le famiglie e soprattutto per i bambini per far vedere i dinosauri di una volta, in grandezza naturale. Il tirannosauro, questo tra i dinosauri è quello che preferisco, guarda che bocca! Grandezza naturale! Questo secondo me, se non ricordo male, del tempo della scuola che le ho studiati, è un veloci raptur, vediamo! Non ci ha chiappato! Qui ha anche i suoi cuccioli! Guarda questo che coda lunghissima che ha! Ma quanto è lungo questo? Infinito! Grazie a tutti!